Buonasera dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Roma ci sono 6 km di coda per un incidente adesso risolto, tra Firenze e Impruneta e Incisa Reggello. In direzione Bologna, rallentamenti per il traffico intenso tra Calenzano, Sesto Fiorentino e Bivio con la variante di Valico-Baccheraia. Spostandoci in FIPI lì per lavori di miglioramento della sicurezza sul gadotto del turbone, al momento ci sono 2 km di coda tra la Strassigna e Montelupo-Fiorentino in direzione Livorno e rallentamenti tra Montelupo e Ginestra-Fiorentina in direzione Firenze. Si ricorda che la statale 330 è chiusa in località al Biano Magra, nel comune di Aulla, in provincia di Massa Carrara, a causa del crollo del ponte sul fiume Magra. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!